Riprendiamo la lettura dell'agricoltura in città e continuiamo a leggere insieme. Zucche al quattordicesimo piano. Coltivare in città è difficile perché bisogna trovare abbastanza spazio per farlo. Si supplisce alla mancanza di spazio costruendo altissimi grattacieli che ospitano centinaia di persone occupando così una piccola porzione di terreno. Ora gli ingegneri stanno cercando di fare la stessa cosa con l'agricoltura in città. Non è lontano il giorno in cui i grattacieli diventeranno fattorie verticali. In grado di fornire raccolti per tutto l'anno. Gli scienziati hanno progettato dei prototipi per un palazzo fattoria di 30 piani, grande come un intero isolato di New York in cui potrebbe crescere abbastanza cibo per sfamare in un anno 50.000 persone. Allora, la parola qui che troviamo in giallo è la parola prototipi. Cosa significa la parola prototipi in italiano? Prototipo in italiano significa primo esempio. Quindi, cosa sono questi palazzi in queste fattorie verticali? Sono dei palazzi in altezza perché il palazzo cresce in verticale mentre la linea dell'orizzonte è in orizzontale. Andiamo un po' a capire quello che c'è scritto in questo piccolo paragrafo. C'è scritto che coltivare in città non è facile. In italiano non è facile. Il sinonimo è difficile. Perché? Perché bisogna trovare abbastanza spazio. Cioè, servirebbe tanto terreno. Ma tanto terreno non c'è. Per cui gli ingegneri sono i dottori laureati in ingegneria stanno cercando di fare la stessa cosa ossia di fare comunque agricoltura ma non in orizzontale, cioè su terreno ma in verticale ossia all'interno di grattacieli che diventeranno delle fattorie in altezza. Hanno già progettato gli scienziati dei prototipi cioè dei primi esempi di palazzo fattoria verticale per un palazzo fattoria di 30 piani grande come un intero isolato di New York. Andiamo di nuovo a ripassare il verbo coltivare. Presente indicativo Io coltivo Tu coltivi Lui coltiva Noi coltiviamo Voi coltivate Loro coltivano Passato prossimo Ho coltivato Io ho coltivato Tu hai coltivato Lui ha coltivato Noi abbiamo coltivato Voi avete coltivato Loro hanno coltivato Andiamo avanti con la lettura Non solo buon cibo Il titolo di questo paragrafo è Non solo buon cibo L'agricoltura in città è importante anche per altri motivi Aiuta a ridurre l'anidride carbonica e i gas Serra Aiuta a ridurre Che significa ridurre? Aiuta a far diminuire La quantità di anidride carbonica e di gas Serra Assorbe l'acqua dei temporali E isola i muri dei palazzi Sia dal caldo che dal freddo Costituendo quindi un bel risparmio energetico I tetti verdi e i muri pieni di vita Ospitano animali come farfalle Maggiolini e uccelli Infine è molto più bello Vivere in una città allegra E con tanti muri colorati Quindi l'agricoltura in città è importante E è voce del verbo essere Presente indicativo Io sono Tu sei Lui è Noi siamo Voi siete Loro sono Aiuta Aiuta a fare che? A far diminuire A far ridurre Aiutare Voce del verbo aiutare Are Prima coniugazione Tempo presente Modo indicativo Io aiuto Tu aiuti Lui aiuta Noi aiutiamo Voi aiutate Loro aiutano Assorbe Voce del verbo assorbire Ire Terza coniugazione Modo indicativo Tempo presente Io assorbo Tu assorbi Lui assorbe Noi assorbiamo Voi assorbite Loro assorbono L'acqua dei temporali E isola 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 qui Non è l'isola della Sicilia O l'isola della Sardegna Cioè le due grandi isole italiane Ma è il verbo Isolare Significa che Tutela Protegge I muri Dei palazzi Sia dal caldo Sia dal caldo Che dal freddo Isolare Verbo Isolare Are Prima coniugazione Modo indicativo Tempo presente Io Isolo Tu Isoli Lui Isola Noi Isoliamo Voi Isolate Loro Isolano I tetti verdi E muri pieni di vita Ospitano Verbo Ospitare Significa Che In questi palazzi Su questi tetti Vanno a vivere A volare Tante farfalle Tanti uccelli Io ospito Lui ospita Io ospito Tu ospiti Lui ospita Noi ospitiamo Voi ospitate Loro Ospitano Infine È molto più bello Vivere in una città Allegra E con tanti muri colorati Il verbo Vivere Già lo conosciamo Vivere Seconda coniugazione Questo è un Infinito Presente Allora Oggi Abbiamo terminato Questa pagina Di lettura La prossima lezione Termineremo Tutto l'articolo E vi invito A continuare A fare la ricerca Che io aspetto Alla prossima